Come è un fenomeno ecologico? Allora sì, il rimando è un po' il filo conduttore che stiamo tenendo, quello di un buon senso, cioè riconoscere il razionale della questione ecologica e affrontarla in questi termini, oppure svenderla a un costrutto ideologico e anche ad un approccio ideologico. Quasi addirittura alcuni parlano di un senso rivoluzionario nei confronti dei nuovi moti ecologisti. È un buon senso? Io mi domando un po' questo, perché a parlare di ecologia, al di là del distinguo da fare fra la questione climatica, la questione dell'inquinamento, la questione ambientale, la preservazione delle varie specie, che ciascuno ha dei suoi parametri, ciascuno è stato soggetto a disinformazione totale, ciascuno è diventato un po' uno standardo, se vogliamo, di un nuovo moto, un nuovo movimento, un nuovo perché, che molto spesso anche nei giovani è stato, non so se ritrovato o affiliato in qualche modo. Si veda anche il consenso dato anche dalle istituzioni e degli scioperi scolastici per protestare. Io vedrei anche l'altro aspetto, quando la politica la cavalca, ma con un solo obiettivo, imporre nuove tasse, per esempio. Adesso la tassa sulla plastica, che la plastica inquini, questo è ovvio, ma dipende con che scopo si vuole affrontare un problema. E se vogliamo affrontare un problema con lo scopo di metterci delle tasse, allora la natura di questo intervento, di questa azione, è completamente degenerata. Sì, se ho un po' qualche dubbio anche qui sulla natura dell'interesse che ci sta dietro la questione ecologica, cioè è una questione in cui c'è una salvaguardia del bene comune, perché il bene comune è inserito nella persona in un contesto nel quale vive, che è quello legato all'ambiente, che è quello legato al pianeta, di cui è il custode non proprietario. E anche qui il distingo è molto, molto, molto forte, diciamo, è molto netto. E dall'altra parte c'è invece un approccio che sembra più andare a guardare determinati aspetti, nel piccolo, se vogliamo, di comportamenti. Vedi ad esempio la tassazione sui quali doversi adattare per dei meccanismi probabilmente economici o diplomatici, non si capisce bene di cui non sappiamo bene tutto l'ampio raggio delle questioni. E dall'altra parte si vanno invece a occultare dei grossi fenomeni, come per esempio la Cina, nella questione ambientale, nella produzione di inquinamenti o di plastica e quant'altro. Perché? Perché è un colosso. Allora lì, anche nell'atteggiamento, senza entrare appunto nel dettaglio economico-politico, io mi domando se davvero quello che si vuole trasmettere è il ripristino e la rinascita di un senso morale anche nei confronti del problema ecologico. Questo è un bene farlo dal punto di vista educativo. Quindi strutturare delle nuove forme di investimento formativo, educativo, culturale, non ideologico. Quindi ci tengo a precisare questa cosa. Che facciano e costruiscano nella società, nei giovani o nella società abitata anche dagli adulti di oggi, degli sentimenti e degli atteggiamenti che siano di reale custodia del creato, della custodia del pianeta, della custodia di quella che viene chiamata casa comune. Questa è l'ecologia che spesso viene nominata in ambito ecclesiastico, ecologia umana integrale, o che Giovanni Paolo II ad esempio nel 2001 aveva chiamato conversione ecologica. Sta proprio in questo. Non nella instaurazione di un'etica ecologica, ma di un senso di maturazione etico nel problema ecologico. Nel mio campo specifico della bioetica, la bioetica è essenzialmente nata su questo. Cioè è nata nel vedere una situazione in cui le scienze naturali, le scienze della salute, erano completamente altro rispetto alle scienze umane, quindi ha un senso di responsabilità nei confronti di ciò che si fa. Allora abbiamo pensato di dover creare una disciplina che riuscisse a essere ponte fra queste due dimensioni. Questo tanto nelle questioni strettamente sanitarie, quanto nelle questioni di intervento dell'uomo nell'ambiente e nel pianeta che abita, quindi sulle risorse, quindi sul bioterrorismo, quindi su tutte le questioni anche che riguardano l'innovazione tecnologica. Come questo impatto innovativo è un impatto non solo per chi ne deve far uso, ma anche per chi è agente protagonista in questo. Ciò che noi facciamo è anche ciò che ci fa, spesso viene detto, quindi dare una nuova impronta su se stessi che abbia anche a cuore questi aspetti con un senso di rapporto con sé che è anche un'interrelazione con il creato. Questo fa l'enorme differenza tra un razionale ecologico, cioè un razionale sulla questione ecologica, e l'ecologismo ideologico, che invece fa riferimento a movimenti come l'ecocentrismo, l'ecofeminismo o la dipecology, che sono invece dei movimenti che allargano la questione etico-antropologica su questo, arrivando a delle estremizzazioni, che tra l'altro sono anche alla cronaca di oggi, per esempio sulla necessità di maturare un senso di dovere nei confronti dell'estinzione della specie umana. Per salvaguardare l'ambiente, perché? Perché l'uomo è l'ente distruttore, eccetera. Come se in realtà in una decostruzione del punto di vista totale di gerarchia ontologica, l'uomo non fosse un ente che ha coscienza di sé ed è per questo che ha una maturità sugli altri enti e che è agente protagonista di questa custodia. Quindi il punto è, da distruttore è lo stesso potenziale che può invece prendersi cura. E in questo stare educazione, al posto dello sciopero, ho visto molto meglio una proposta di questo venerdì di sciopero fatto dagli studenti che hanno fatto alcune scuole invece di aiutarli a ripristinare un senso di agricoltura, un senso di, che ne so, per esempio andare ad occuparsi dell'ambiente, delle piante, eccetera. Cioè dare a loro questo sentimento. Ancora un altro episodio che fa parte di questi movimenti sull'estinzione umana è anche il professore famoso, il professore svedese di economia, sempre all'università, se non sbaglio, insomma della Svezia, che ha proposto di far uso, far buon uso di un nuovo sistema alimentare, che è quello della carne umana. Molti hanno preso questa notizia come l'assurdità e il vaneggio di un pazzoide. No, non è un vaneggio di un pazzoide, può essere sicuramente anche un vaneggio di un pazzoide rispetto alla questione sul cannibalismo, ma è altresì una diretta conseguenza concettuale sul fatto stesso che si accettano delle manifestazioni che stanno all'interno di macro manifestazioni come quelle anche dell'ambiente, nelle quali ci si propone, si auspica all'estinzione di massa. E quindi la rinuncia della specie, questo dal punto di vista filosofico, è un movimento che va avanti da molto prima dell'esplosione della questione ecologica. E io credo che sia in realtà proprio qui il punto sul quale siamo chiamati anche a riflettere rispetto al razionale nei confronti di questo intervento, perché banalmente possiamo stracciarci le vesti sulla questione ecologica in piazza, ma poi non prestare attenzione a delle abitudini quotidiane o a fare delle rinunce a dei sacrifici quotidiani che vanno comunque a compensare in questa direzione. Magari sono i ragazzi che hanno, che nel Black Friday vanno a manifestare e dopo finita la manifestazione magari vanno a McDonald's, giusto per dare un esempio diciamo se vuoi banale, ma che è estremamente realistico e che rende, io credo, molto bene l'idea. Certo, sì sì.